un saluto a tutti gli amici della tua tv noi siamo Piero e Cristian ovvero io sono Cristian io sono Piero ma è uguale i new entry della tua tv siamo qui a Monterotondo provincia di Roma dove oggi ci sarà il derby tra Real Monterotondo anzi no visto che siamo su in paese e eretum contro il Real Monterotondo quindi un derby di eccellenza nel senso che non le squadre che sono di eccellenza ma sono un'eccellenza del calcio italiano ma proprio la categoria l'eccellenza e la particolarità qual è che una è prima e l'altra è seconda cioè sono prima e seconda e c'è il derby qui in questo fine settimana dove seguendoci qui sulla tua tv vedrete veramente cosa c'è a Monterotondo a Monterotondo c'è fermento adesso noi vi lasciamo qualche secondo dopo andiamo a intervistare a qualcuno e vediamo vediamo un po il sentore che c'è tanta roba tanta roba tanta gente tanta gente vediamo qua sentiamo un attimo qualche tifoso se ci vuole dire qualcosa salve vi disturbiamo come andrà questa partita parli col presidente sembra che 0 a 0 per adesso 0 a 0 c'è molta attenzione quello che sta venendo è un derby atipico che senso atipico le squadre sono le società sono quasi non ti dico fratelli ma siamo lì non c'è una bella cosa non c'è siamo con il sindaco di Monterotondo un saluto agli amici della tua tv signor sindaco buon pomeriggio e un saluto appunto agli amici della tua tv io da quello che ho capito qua siamo al derby qui siamo al derby tra Real Monterotondo Scalo e Redum Monterotondo che tra l'altro appunto sono nello stesso girone e attualmente sono il Real Monterotondo Scalo prima in classifica e a tre punti le Redum Monterotondo quindi oggi una giornata di festa che deve essere ovviamente di festa all'insegna dello sport e della sana competizione ma insomma ci si gioca anche a questo punto del campionato sicuramente una bella posizione in classifica e quindi lo stadio è strapieno e così deve essere per una giornata che ci regalerà anche domani la festività di Sant'Antonio Abbate e come abbiamo anche comunicato e come ho comunicato come amministrazione deve essere appunto una giornata di rispetto tra le due squadre perché entrambe rappresentano Monterotondo e quindi devono dimostrare il loro valore sul campo rispettando questa bella diciamo sfida sportiva ma all'insegna di valori importanti sulla carta la prima il Real secondo me è favorito però i derby sono partiti a sé partiti a sé quindi tu invece per chi fa il tifo? io sono neutro neutro? mi piace vedere la partita e basta spero che vinca il Monterotondo Scalo che riusciamo a raggiungere questa Serie D e che vada bene insomma che vada bene un saluto agli amici della tua tv un saluto agli amici di... come hai detto? scusa eh un saluto alla tua tv sembrava che ti chiedevo saluto alla Unzinger un saluto agli amici della tua tv è sempre un piacere e sicuramente ci rivedremo presto perché ci permetterete di... e loro vi permetteranno di conoscere tutta Monterotondo dalle sue tradizioni alle sue particolarità e se lo dice il sindaco ci fidiamo è una conferma eh è una conferma ciao a tutti ciao a tutti ciao ciao ciao